Un progetto per la riqualificazione di un'area importante del centro storico di Sala Consilina, quella di Corso Cavour, ma che allo stesso tempo punta a risolvere molte criticità presenti nella parte inferiore della città capofila del Vallo di Diano, in particolare quella di via Mezzacapo ed anche a dare soluzione definitiva alle problematiche del mercato settimanale. L'iniziativa arriva dal Movimento 5 Stelle Vallo di Diano e si sviluppa attraverso un parcheggio multipiano capace di raccordare la parte bassa della città con il suo centro storico, valorizzandone sia il patrimonio architettonico e storico, in particolare chiese e palazzi come la grancia di San Lorenzo, che quello immobiliare costituito da abitazioni in parte sfitte favorendone l'utilizzo e nel contempo riqualificando la viabilità della zona. Il parcheggio multipiano risolverebbe il problema dei parcheggi per gli abitanti del centro storico, ma anche degli utenti che si recano al vicino ufficio del giudice di pace, presso gli uffici Enel o al vicino palazzo municipale, con ricadute positive anche per i negozianti di via Mezzacapo. Nella struttura destinata ad ospitare al coperto anche il mercato settimanale è prevista un'area verde per ospitare a costo zero tutti i produttori locali che venderanno i loro prodotti a chilometri zero. Il progetto, voluto dal portavoce del Movimento 5 Stelle Antonio Gallo, opera per la parte strutturale dell'ingegner Antonio Curcio e per quella relativa all'impiantistica del perito elettrotecnico Giuseppe Di Giuseppe. La struttura a basso impatto ambientale andrebbe ad occupare lo spazio attualmente destinato a parcheggi di fronte al palazzo Quattro Torri e si sviluppa su sette livelli per complessivi 16.000 metri quadri. L'accesso alle auto è consentito tramite barriere mobili e rampe di idonee dimensioni. L'accesso ai pedoni attraverso percorsi privilegiati e protetti, nonché attraverso ascensori e scale mobili a servizio di tutti i livelli. A livello tecnologico sono previste apparecchiature a basso consumo energetico, come i LED e motori a magneti permanenti, coordinati da un impianto fotovoltaico. Al piano terra sarà allestito inoltre un infopoint nel quale acquisire tutte le informazioni turistico-alberghiere, di ristorazione ed altri eventi presenti sul territorio. Dal punto di vista della gestione, utili sono previsti dalla vendita o dal fitto dei box auto circa 100 e dai parcheggi circa 250 e dal servizio ascensori. Nasce quest'idea per dare un servizio in più alla cittadinanza del centro storico, che attualmente è molto abbandonata perché non ci stanno parcheggi, perché non ci sta una viabilità, perché non ci sta accesso alle autoambulanze e perché spesso i cittadini sono costretti a muoversi in maniera chilometrica, se vogliamo dirla, per andare a fare la spesa. I primi due piani sono due piani di 3.600 metri quadri per un'altezza di 4 metri. Andranno a rivestire dei parcheggi e nel periodo mercatale, quindi nel giovedì, andremo ad inserire l'area mercatale. Un mercato coperto e basta pensare che attualmente il mercato attuale riveste un'area di 2.500 metri quadri, adesso avremo a disposizione 7.000 metri quadri. Per il momento intendiamo lasciare pubblico il progetto, ne rivendichiamo solamente la paternità della realizzazione, quindi del progetto stesso. Sarà un progetto che sarà messo a disposizione anche dei giovani architetti, dei giovani ingegneri. Spero che sia fatto un concorso di idee dove in questo concorso di idee ognuno potrà dire la propria. Ingegnere Antonio Curcio, lei ha curato la parte strutturale di questo progetto. La prima domanda ovviamente è l'uovo di Colombo. È fattibile, realizzabile, cantierabile questa idea? Sì, diciamo l'idea dal punto di vista funzionale, strutturale e cantierabile. Abbiamo fatto delle indagini ovviamente preliminari, sia geologiche che geotecniche e abbiamo verificato che la struttura, l'area di sedime dell'attuale parcheggio è un'area che si presta bene a realizzare una struttura multipiano in elevazione fino all'area di cui parlava Antonio Gallo che era la zona di Corso a Cavour a monte di questo manufatto. In effetti è previsto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio di questa struttura per una potenza complessiva di circa 25 kilowatt che andrà ad alimentare delle luci a LED quindi con notevoli risparmio economico rispetto a quelle classiche. In più abbiamo previsto per quanto riguarda la realizzazione di acqua calda e preuso igienico e sanitario pannelli solari termici.